Musica Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Ecchiare Lettere. Oggi faremo uno speciale per documentarvi un fenomeno che da ottobre sta affliggendo il Salento. Diversi episodi, diverse auto a fuoco ma non solo, anche attentati ad attività commerciali in tutto il Salento. Insomma un fenomeno che ormai viene attenzionato da quelle che sono le autorità giudiziarie. Ma sentiamo il collega Paolo Franza che spiega nel vivo cosa sta accadendo. Siamo a Casarano, alle mie spalle il Palazzo di Città. Partiamo da qui per raccontarvi quello che sta accadendo negli ultimi mesi. Perché è proprio qui dove si è registrato il maggior numero di atti intimidatori. Ed è proprio lì dentro che il prefetto di Lecce, Luca Rotondi, ha deciso di venire direttamente a Casarano per incontrare i sindaci del territorio e per incontrare le forze dell'ordine locali, per cercare di comprendere meglio il fenomeno e trovare delle soluzioni. Facciamo un passo indietro. Siamo alla fine dell'estate 2022 quando iniziano a verificarsi una serie di strani fenomeni. Si inizia da incendi di auto, si passa anche agli incendi di abitazioni. Avviene tutto prevalentemente nel cuore della notte. E con il verificarsi di questi incendi si comprende che ad essere presi di mira sono principalmente amministratori locali e imprenditori. perché le auto, così come le abitazioni, sono in uso proprio a queste tipologie di persone. Prevalentemente amministratori locali, quindi politici e imprenditori. Questo fenomeno va via via di gigantirsi sempre di più. Si entra addirittura nelle aziende che gestiscono la raccolta dei rifiuti. Ricordiamo l'episodio per esempio all'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Casarano dove sono stati incendiati cinque mezzi. Nella stessa notte sono state incendiate cinque auto sempre a Casarano ai danni della concessionaria Guglielmo Denuzzo. Poi anche altri incendi. Insomma il fenomeno inizia a diventare sempre più importante e sempre più sotto i riflettori delle forze dell'ordine perché si comprende che non è soltanto un incendio, un caso isolato ma iniziano ad essere molto frequenti. フル chime A risposta Ah all'instituzione All'ispa C'è una ambito Bocadona 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 E dopo un vertice in prefettura, dopo i primi campanelli d'allarme, si decide di intervenire con l'aumento dei controlli, tant'è che di notte si vede in giro per la città di Casarano ma anche nei comuni limitrofi una massiccia presenza di forze dell'ordine. Ma si alza il tiro perché poi siamo a dicembre quando un incendio avviene nel pieno del pomeriggio, due auto e una villetta vengono completamente distrutte, un incendio di chiara matrice dolosa come verificheranno le forze dell'ordine. Questo viene percepito come un segnale. Perché poi di lì ci sono stati altri episodi, altri incendi avvenuti sempre nel pomeriggio. Quindi non è soltanto un atto che viene messo in moto soltanto nelle ore notturne, ma anche nel pomeriggio. Ed è così che poi si arriva, dopo gli ultimi numerevoli episodi verificatisi nel Sud Salento, a fare un vertice con le forze dell'ordine proprio nel palazzo di città dove si arriva anche ad attuare metodi drastici come sottolineerà lo stesso primo cittadino di Casarano, Ottavio Denuzza, che dice bisogna che Casarano sia un grande fratello, occhi elettronici ovunque. Ed è l'invito che fa anche il prefetto mettendo a disposizione i propri strumenti anche ad altri primi cittadini. Polizia, Carabinieri e Guardia di Firenze rassicurato sul fatto che questi fenomeni stanno regredendosi. E tutti e sette comuni, tutti e sette sindaci notiamo un maggiore incremento di forza di polizia. Quanto possono essere utili alle indagini, visto che molti comuni dopo questi episodi stanno cercando anche di incrementare gli occhi elettronici nel proprio comune? Noi in ogni caso abbiamo partecipato ad un bando, sempre dalla prefettura. Questo progetto l'abbiamo cofinanziato in ogni caso, questi 80.000 euro che abbiamo cofinanziato il progetto li teniamo a disposizione in ogni caso per implementare il... Poi se ci auguriamo che venga finanziato questo progetto, parlavo proprio col comandante, che Casarano potrebbe diventare proprio tipo un grande fratello, perché con questo progetto abbiamo previsto mi pare 35-36 telecamere in tutte le entrate e l'uscita di Casarano con telecamere ad alta definizione con la lettura a targhia, che dovranno essere poi collegate direttamente con la stazione dei Carabinieri. Bisogna avere una città videosorvegliata per portare i malviventi a farli desistere nelle azioni criminose. Non soltanto incendi, come ricordava Maria Teresa Carrozzo in apertura di trasmissione, ma anche pistolettate. E sì, perché di mira vetrine di attività commerciali con un fucile sono state danneggiate, ma anche le auto di imprenditori sono state danneggiate sempre da un fucile a pallini. Episodi che si sono verificati in piena notte, sempre qui a Casarano, ma anche nei comuni limitrofi e ovviamente a questi episodi si aggiungono le bombe carta, le esplosioni di ortigni artigianali che squarciano il silenzio della notte. Quindi l'appello anche a tutti i cittadini di scendere in campo o di fare la propria parte nel piccolo, anche partecipando a questi tipi di incontri, di confronti, significa comunque prendere consapevolezza, perché c'è bisogno anche di questo, prendere consapevolezza del clima che si sta vivendo. Certamente, noi come comitato siamo aperti a tutti e chiaramente non solo le istituzioni, sono una presenza fondamentale quella delle istituzioni, il mondo dell'associazionismo sia laico che cattolico, è fondamentale anche questo tipo di presenza all'interno del nostro comitato, ma i singoli cittadini, cioè ognuno deve fare la sua parte, non ci si può voltare dall'altra parte e dire non mi ha colpito, questo argomento non mi interessa e ci voltiamo dall'altra parte. E' importante la partecipazione di tutti i cittadini, logicamente dobbiamo affiancarci alle forze dell'ordine e alla magistratura, noi abbiamo un compito che è quello di sensibilizzare la cittadinanza, sia per il nostro territorio e così anche le altre amministrazioni per i propri comuni di appartenenza, è chiaro questo. Da soli, ripeto ancora una volta, non mi stancherò mai di dirlo, non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, è importante che si è tutti uniti e si fa un'unica battaglia su questo tema. Penso che i risultati li raggiungeremo abbastanza facilmente, così. E' utile proprio fare questo tipo di iniziative importanti. Noi stiamo seminando e cominciamo già da diversi anni, stiamo facendo questo lavoro, cercare questo lavoro di rete e ci stiamo raggiungendo molti obiettivi ed è importante. Casarano si sta attivando per rendere la città più sicura, videosorvegliata, insomma, quello che si può, ognuno, la sua parte la sta facendo. L'amministrazione comunale ha messo in campo diversi progetti per la legalità, dalla videosorveglianza dei quartieri più a rischio e anche videosorveglianza delle nostre scuole. E poi altre situazioni molto importanti, come per esempio anche l'investimento culturale che si sta facendo in questa città molto forte, l'incontro, ripeto, con le nostre dirigenti scolastiche, quindi anche la sensibilizzazione e il raccordo con il mondo della scuola e della pubblica istruzione, insomma, noi stiamo mettendo tutte le energie in campo per far sì che in questa città il vento della legalità gonfi sempre di più la vela della libertà. Per quanto riguarda invece il fatto di ognuno deve fare la sua parte, dicevamo il Comune si sta impegnando per quello che è di sua competenza, le associazioni oggi le troviamo qui riunite, si confrontano, cercano anche di studiare strategie come per esempio il fatto di allargare ad un'associazione intercomunale, quindi anche i cittadini tutti devono sentirsi chiamati in causa e tutti devono fare la propria parte. Certamente, anche questo è qualcosa di positivo, per questo siamo presenti qui anche come amministrazione perché è un seme che va aiutato a germogliare. Rendere intercomunale una presenza attiva, una cittadinanza attiva è fondamentale ed è importante, quindi siamo qui proprio come amministrazione, stiamo partecipando come amministrazione proprio per dare il nostro supporto anche a questa iniziativa che insieme a tutte le altre iniziative deve concorrere per diventare una forza attiva sul territorio. Anche lo sport che comunque è fatto di essere di esseri umani è vicino a queste problematiche, il clima che si sta vivendo a Casarano e nei paesi limitrofi non può passare, non deve passare inosservato. Assolutamente, lo sport è fondamentale ai fini diciamo di una crescita sociale, noi abbiamo un settore giovanile dove abbiamo 30 ragazzi che vanno dai 7 anni ai 14 ai 15 anni, l'importanza dello sport sappiamo qual è, è un elemento di crescita umana, è un elemento di crescita voglio dire educativa, è chiaro che il mio auspicio è vedere sempre più associazioni che si occupano di sport ma che allo stesso tempo sono legate anche a tematiche sociali, perché diciamolo francamente è un ragazzo che viene tolto dalla divanite, dico io, attraverso gli iPhone e tutti gli strumenti che ci sono ora per distrarre, è un potenziale diciamo ragazzo che potrebbe magari intraprendere cattive strade, lo sport sotto questo aspetto è educativo e lancia segnali importanti, voglio dire, insomma positivi, anche di sostegno alle famiglie se vogliamo. Questo è il bello anche dello sport, un'altra faccia della medaglia, non è solo gara, competizione ma soprattutto per le giovani generazioni, per i giovanissimi, si insegna tanto, si insegna anche la legalità, quindi sfatiamo il mito che lo sport non è soltanto quella competizione in quel momento della partita. Certo, di fatti io lo dico sempre ai genitori dei ragazzi, anche ai miei ragazzi, prima di diventare campioni dello sport la mia ambizione è che diventino campioni di vita, consegnare la vita dei ragazzi, voglio dire, responsabili, educati, sostenitori della legalità. Ed ecco che è necessario quindi un lavoro di squadra ed ecco che associazioni cittadine si sono unite per fare squadra e anche richiamare l'attenzione maggiormente. Insomma, si va a voglia di dire basta a quello che può non soltanto rovinare la reputazione del Salento ma portare dei gravi danni a quelle che sono le comunità imprenditoriali. Sentiamo Paolo Franza cosa aggiunge alla nostra analisi. Sulle indagini vige il massimo riservo, bisogna però fare una distinzione perché alcuni degli incendi registrati sono stati poi risolti, si è capito che la matrice era tutt'altro che criminale, ma restano invece gran parte degli episodi che sono avvenuti nel sud Salento ancora irrisolti. Non si parla di omertà da parte dei cittadini, assolutamente non sappiamo proprio perché c'è stretta sulle indagini in corso se i cittadini sono collaborativi o meno. Quel che è certo, ed è bene raccontare anche il risvolto positivo della vicenda, è che associazioni del territorio si sono unite, stanno facendo squadra, stanno cercando anche di costituire un comitato intercomunale per la legalità e la cittadinanza attiva. Questo perché? Perché in qualche modo si vuol dire a tutto il territorio dobbiamo reagire, dobbiamo affidarci alle forze dell'ordine, ma non solo, anche noi dobbiamo fare la nostra parte con iniziative di sensibilizzazione ed è un po' quello che è avvenuto nei giorni scorsi a Casarano dove a Palazzo Delia si sono incontrate le associazioni non solo di Casarano ma anche dei comuni limitrofi, proprio perché l'intento è quello di creare una rete tra i territori colpiti da questa emergenza, perché è inutile nasconderci dietro un dito di emergenza si tratta, bisogna dire le cose come stanno, perché se non si è arrivati a risolvere una questione così importante e gli episodi di incendi continuano ancora a verificarsi, dobbiamo continuare a parlare di emergenza. Ma intanto da una parte c'è una cittadinanza attiva che vuole reagire e che vuole organizzare eventi per sensibilizzare i cittadini anche alla collaborazione fattiva, qualora dovessero essere vittime o qualora dovessero essere testimoni diretti di alcuni episodi e quindi questo è lo scopo anche del Comitato Intercomunale per la Legalità e la cittadinanza attiva. Libera Casarano sta cercando insieme alle associazioni vicine di fare rete perché bisogna rispondere al clima che si sta vivendo e c'è bisogno di lavorare insieme, l'unione come si dice fa la forza. Certamente perché se non ci uniamo con altre realtà nel nostro territorio ma anche oltre il territorio stesso di Casarano non si riesce a incidere per come è necessario incidere sul territorio non solo di Casarano ma di tutto l'Interland ma anche con comuni che sono anche più lontani da Casarano è fondamentale ma hanno avuto pure loro dei casi di cronaca nera abbastanza importanti quindi riuscire a creare rete e a fare rete sul territorio è fondamentale. Il noi è quello che vince. Ognuno fa la sua parte, anche la politica sta facendo la propria nel cercare di rendere la città sicura, sorvegliata. Forse ci siamo trovati un po' impreparati in questo fenomeno che negli ultimi mesi è cresciuto molto. La politica deve fare la sua parte e noi per quello che ci compete come associazioni di volontariato e anche altri tipi di associazioni del territorio dobbiamo affiancarci alla politica, dobbiamo tutti collaborare, stare insieme per questa tematica è così fondamentale nel nostro territorio perché non si può prescindere assolutamente, nessuno può andare da solo perché come ho detto prima non si va da nessuna parte. Qual è la sua idea su questa unione un po' allargata? Parte dal presupposto che i fenomeni non vadano mai sottostimati, gli eventi non vadano mai sottovalutati ed in questo contesto la presenza, la partecipazione del coordinamento del Libera Lecce facente parte delle componenti di questo comitato casarano-libera per non giocare con i termini è di fondamentale importanza perché il obiettivo principale di Libera è quello di costituire una rete, una rete di attenzione, una rete di interesse, una rete per non sottovalutare come dicevo prima nulla che deve essere interpretato nel tempo ma soprattutto stimolare una partecipazione attiva delle diverse componenti che in comunità così colpite, interessate sentiranno sicuramente la forza di un rapporto spalla a spalla di vicinanza con quelle che sono le associazioni, gli enti, le rappresentanze che di giustizia e di legalità si occupano. Un'escalation impressionante quella che c'è stata negli ultimi mesi nel territorio di Casarano e nei comuni limitrofi non si riesce a venirne a capo seppur le indagini sono in corso l'appello anche ai cittadini di prendere consapevolezza di quello che sta accadendo. Ma guardate è davvero un appello, una richiesta di aiuto, non è con il silenzio, con l'indifferenza riusciremo a battere o vincere o a prevalere su fenomeni così importanti. Ripeto, ogni singolo evento non deve essere considerato come aspetto isolato, ma va visto nella complessità di un fenomeno e probabilmente di una riorganizzazione criminale all'interno del territorio. Se riusciremo a dar segno di passione, di vicinanza, le stesse istituzioni riusciranno a dare una risposta forte a quello che è un fenomeno che, ripeto, non va sottostimato e che coinvolge tutti. Coordinamento Libera Lecce c'è. C'è bisogno di confrontarsi, di scambiarsi anche le proprie opinioni, idee e soprattutto cercare di fare rete per costruire qualcosa di bello non solo a Caserano ma anche nei comuni limitrofi, fare rete insomma. Sì, assolutamente. Il concetto da cui abbiamo preso spunto e da cui siamo partiti è proprio questo qua. Una cosa importante ci ha fatto molto riflettere è un'iniziativa che è stata promossa dal Polo 2 qui di Caserano che hanno riflettuto sugli stessi temi, quelli della cosiddetta criminalità organizzata, sviluppando il concetto di umanità organizzata. Ecco, questo secondo me deve essere il nocciolo di una nuova prospettiva, anteporre alla criminalità organizzata, la società, la socialità organizzata perché se dall'altro lato naturalmente riescono a fare rete per superare i confini comunali, per delinquere, da quest'altro lato, quello nostro, quella della società civile, c'è sempre qualche remora a mettersi insieme, soprattutto in territori che storicamente come quelli del Meridione hanno avuto difficoltà a stare assieme a condividere esperienze. Noi vogliamo lanciare un po' il cuore oltre l'ostacolo e questa sera vogliamo lanciare proprio l'idea di un comitato intercomunale che si occupi non tanto di legalità ma quanto di senso di giustizia. Il concetto deve essere quello della società e della socialità organizzata che si anteponga alla criminalità. Quindi una risposta alla criminalità organizzata e alla comunità organizzata. Assolutamente sì e noi vogliamo che questo comitato, se nascerà, questo comitato intercomunale per la giustizia, per la socialità, sia anche uno sprone per le istituzioni affinché inizino a collaborare in maniera concreta, seria, a livello intercomunale e questo è l'augurio più grosso che noi ci facciamo e facciamo a tutti noi. Siamo venuti questa sera per testimoniare anche a Libera, a tutto il comitato, la nostra vicinanza. Noi siamo all'interno di un bene confiscato alle mafie, siamo qui già dal augento comunque, dal 2012 e volevamo esprimere la nostra solidarietà a vicinanza e cambiare si può. Ecco, si può fare qualcosa di diverso, si può ridare alla società civile un bene di cui in passato si è fatto un uso non certo legale. Siamo qui, solo questo da dire. È un clima davvero particolare quello che si sta vivendo a Casarano da mesi e nei comuni limitrofi. Dalla vostra esperienza l'appello è quello di non abbattersi ma di reagire. Come diceva qualcuno prima, la criminalità organizzata si combatte con la comunità organizzata. Sì, assolutamente siamo d'accordo. Ci vuole solidarietà, ci vuole vicinanza, condivisione e niente, solo questo. Stare insieme, condividere, parlarne tanto con le nuove generazioni, con i ragazzi soprattutto, ma offrire anche loro delle alternative. Altrimenti il terreno fertile nasce da solo dove c'è disoccupazione, dove c'è bisogno comunque di riscatto e a volte si prendono le vie traverse che sono talvolta anche le più presenti rispetto alla società civile purtroppo. Dipende. Si scende in campo tutti insieme perché solo così si può dare una risposta concreta a quei fenomeni che si stanno verificando in quest'ultimo periodo? Assolutamente. La questione della legalità interessa tutti, tutte le comunità e quindi è giusto fare rete per combattere questo fenomeno e noi come pari crediamo che sia giusto raccogliere l'appello degli amici e delle amiche che ci hanno coinvolto. Siamo qui per ascoltare e per dare il nostro umile contributo a questa causa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati al termine del consueto appuntamento con Acchiare Letta e uno speciale quello di questa settimana per raccontarvi quello che non solo ormai è diventato un fenomeno da essere attenzionato ma anche un grido d'aiuto a dei comunità cittadine e anche imprenditori che temono per la propria incolumità e temono per le proprie attività si perde, si tende a perdere la libertà di investire poiché questi fenomeni come avete visto nel corso della della nostra trasmissione potrebbero essere anche delle attenzioni dei fenomeni dettati dall'operare delle nuove mafie. Ringraziamo Paolo Franza per aver raccolto in questo documentario tutto quello che sta accadendo nel sud Salento, uno speciale Acchiare Lettere che ha riassunto quella che è la nostra storia, l'identità sociale della nostra comunità e vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre su Antenna Sud, sempre con Acchiare Lettere per andare con i nostri microfoni nelle realtà rimitrofe e raccontarvi a Chiare Lettere quello che accade.